di luigi pirandello l'uccello impagliato voce di lorenzo pieri tranne il padre morto a 50 anni di polmonite tutti gli altri della famiglia madre fratelli e sorelle e zie e zii del lato materno tutti erano morti di tisi giovanissimi uno dopo l'altro una bella processione di bare resistevano loro due soli ancora marco e annibale picotti e parevano impegnati a non dar la vinta a quel male che aveva sterminato due famiglie si vigilavano l'un l'altro con gli animi sempre allerta irsuti e punto per punto con rigore inflessibile seguivano le prescrizioni dei medici non solo per le dosi e la qualità dei cibi e i vari corroboranti da prendere in pillole o a cucchiai ma anche per il vestiario da indossare secondo le stagioni e le minime variazioni di temperatura e per l'ora ad andare a letto o di levarsene e le passeggiatine da fare e gli altri lievi svaghi compatibili che avevan sapore anch'essi di cura e di ricetta così vivendo speravano di riuscire a superare in perfetta salute prima marco poi annibale il limite massimo d'età raggiunto da tutti i parenti tranne il padre morto di altro male quando ci riuscirono credettero di avere conseguito una grande vittoria se non che annibale il minore se ne imbaldanzì tanto che cominciò a rallentare un poco i rigidissimi freni che s'era finora imposti e a lasciarsi andare a mano a mano a qualche non lieve trasgressione il fratello marco cercò con l'autorità che gli veniva da quei due o tre anni di più di richiamarlo all'ordine ma annibale come se veramente della morte avesse ormai da guardarsi meno non avendolo essa colto nell'età in cui aveva colto tutti gli altri di famiglia non gli volle da retta erano sì entrambi della stessa corporatura bassotti e piuttosto ben piantati col naso tozzo ritto gli occhi obliqui la fronte angusta e i baffi grossi ma lui annibale quantunque minore d'età era più robusto di marco aveva quasi una discreta pancettina lui della quale si gloriava e più ampio il torace più larghe le spalle ora dunque se marco pur così esile come era stava benone non poteva egli impunemente far getto in qualche trascorso di quanto aveva d'avanzo rispetto al fratello marco dopo aver fatto il suo dovere come la coscienza gli aveva dettato lasciò andare i richiami e le tensioni per stare a vedere senza suo rischio gli effetti di quelle trasgressioni nella salute del fratello che se a lungo andare e se non avessero recato alcun documento anche lui chissà se le sarebbe forse concesse un po per volta avrebbe potuto almeno provare ma che no no orrore annibale venne a dirgli un giorno che s'era innamorato e che voleva prendere moglie imbecille con quella minaccia terribile sul capo sposare sposare chi la morte ma sarebbe stato anche un delitto per dio mettere al mondo altri infelici e chi era quella sciagurata che si prestava ad un simile delitto ad un doppio a un doppio delitto annibale si inquietò disse al fratello che non poteva assolutamente permettere che egli usasse si fatte espressioni verso colei che tra poco sarebbe stata sua moglie che del resto se doveva conservare la vita così a patto di non viverla tanto valeva che la perdesse un po prima un po dopo che gli importava era stufo ecco e basta così il fratello rimase a guardarlo col volto atteggiato di commiserazione e disdegno tentennando appena appena il capo sciocco vivere non vivere quasi che fosse questo bisognava non morire e non già per paura della morte ma perché questa era una feroce ingiustizia contro alla quale tutto l'essere suo si ribellava non solamente per sé ma anche per tutti i parenti caduti che egli con quella sua dura ostinata resistenza doveva vendicare basta sì basta non voleva inquietarsi lui gli dispiaceva anzi d'essersi in prima alterato e riscaldato non più non più voleva sposare liberissimo sarebbe rimasto lui solo a guardare in faccia alla morte senza lasciarsi allettare dalle insidie della vita patti chiari però stare insieme niente noi e in picci niente se voleva sposare fuori fuori perché il fratello maggiore il capo di casa era lui e la casa aspettava dunque a lui tutto il resto sarebbe stato diviso in parti uguali anche i mobili di casa si poteva portarsi via tutti quelli che desiderava ma pian piano con garbo senza sollevar polvere perché la salute lui se la voleva guardare quell'armadio ma sì e anche quel cassettone e la specchiera e le seggiole il lavabo sì sì quelle tende ma sì anche quelle e la tavola grande da pranzo per tutti i flori di figliuoli che gli sarebbero nati sì e anche la vetrina con tutto il vasellame purché gli lasciasse intatta insomma la sua camera con quei seggioloni antichi e il divano imbottito di finto cuoio a cui era affezionato e quei due scaffali di vecchi libri e la scrivania quelli no quelli li voleva per sé anche questo gli domandò sorridendo il fratello e indicò tra i due scaffali un grosso uccello impagliato ritto su una gruccia da pappagallo così antico che dalle penne scolorite non si arrivava più a riconoscere che razza d'uccello fosse stato anche questo tutto quello che sta qua dentro disse marco che c'è da ridere un uccello impagliato ricordi di famiglia lascialo stare non volle dire che così ben conservato quell'uccello gli pareva di buon augurio e per la sua antichità gli dava un certo conforto ogni qual volta lo guardava quando annibale sposò egli non volle prendere parte alla festa nuziale solo una volta per convenienza era andato in casa della sposa e non le aveva rivolto né una parola di congratulazione né un augurio gelida visita di cinque minuti non sarebbe andato di sicuro in casa del fratello né al ritorno del viaggio di nozze né mai si sentiva venir male un tremito alle gambe pensando a quel matrimonio che rovina che pazzia non rifiniva ad esclamare aggirandosi per l'ampia stanza benturata intanfata di medicinali con gli occhi fissi nel vuoto e tastando con le mani irrequiete i mobili rimasti che rovina che pazzia nella vecchia carta da parato erano rimaste e spiccavano le impronte degli altri mobili portati via dal fratello e quelle impronte gli accrescevano l'impressione del vuoto nel quale egli quasi cancellato vagava come un'anima in pena via via no non doveva scoraggiarsi non doveva pensarci più a quell'ingrato a quel pazzo avrebbe saputo bastare a se stesso e si metteva a fischiare pian piano o a tamburar con le dita sui vetri della finestra guardando fuori gli alberi del giardinetto i scheletriti dall'autunno finché non avvistava lì sullo stesso vetro su cui tamburellava oddio una mosca morta intisichita appesa ancora per una zampina passarono parecchi mesi quasi un anno dalle nozze del fratello la vigilia di natale marco picotti sentiva venire dalla strada il suono delle zampogne e dell'acciarino e il oro delle donne e dei fanciulli per l'ultimo giorno di novena davanti alla cappelletta parata di fronde udiva lo schioppettio dei due grossi fasci di paglia che ardevano sotto quella cappelletta e così angosciato si disponeva ad andare a letto all'ora solita allorché una furiosa scampanellata lo fece sobbalzare quasi con tutta la casa una visita d'annibale e della cognata annibale e lillina irruppero imbacuccati sbuffanti e si misero a pestare i piedi per il freddo e a ridere a ridere come ridevano vispi allegri festanti gli parvero ubriachi o una visitina di dieci minuti soltanto per fargli gli auguri non volevano che per causa loro ritardasse neppure d'un minuto l'andata a letto e non si poteva intanto aprire neppure uno spiraglietto per rinnovare l'aria un tantino là dentro no è vero non si poteva neppure per un minuto oddio e che cos'era la quella bestiaccia quell'uccellaccio impagliato sulla gruccia e questa o una bilancetta e per le medicine è vero carina carina e donna fanny dov'era donna fanny per tutti quei dieci minuti lillina non si fermò un attimo saltellando così di qua e di là per la camera del cognato marco picotti rimase stordito come per una improvvisa furiosa folata di vento che fosse venuta a scompigliargli non solo la vecchia camera silenziosa ma anche tutta l'anima e dunque dunque si mise a dire seduto sul letto quando essi se ne furono andati e si grattava con ambo le mani la fronte e dunque non sapeva concludere possibile aveva ritenuto per certo che il fratello subito dopo la prima settimana dalle nozze dovesse disfarsi cascare a pezzi invece invece eccolo la benone stava benone e come lieto felice addirittura ma dunque che non ci fosse più bisogno davvero neanche per lui di tutte quelle cure opprimenti di tutta quella paurosa vigilanza che potesse anche lui sottrarsi all'incubo che lo soffocava e vivere vivere buttarsi a vivere come il fratello questi ridendo gli aveva dichiarato che non seguiva più nessuna cura e nessuna regola tutto via al diavolo medici e medicamenti se provassi anch'io se lo propose e per la prima volta andò in casa d'annibale fu accolto con tanta festa che ne rimase per un pezzo balordo chiudeva gli occhi e parava le mani in difesa ogni qual volta lillina accennava di saltargli al collo che cara diavoletta che cara diavoletta quella lillina friggeva tutta era la vita volle per forza che rimanesse a desinare con loro e quanto lo fece mangiare e quanto bere si levò ebbro ma più di gioia che di vino quando fu la sera però appena giunto a casa marco picotti si sentì male una forte costipazione di petto e di stomaco per cui dovette stare a letto parecchi giorni invano annibale cercò di dimostrargli che questo era di peso perché se n'era dato troppo pensiero e non si era buttato con coraggio e con allegria allo sproposito no no mai più mai più e guardò il fratello con tali occhi che annibale a un no perché che mi vedi gli domandò impallidendo con un sorriso smorto sulle labbra disgraziato la morte la morte già ne aveva il segno lì in faccia il segno che non falla glielo aveva scorto in quell'improvviso impallidire i pomelli gli erano rimasti accesi spenta l'allegria eccoli sugli zigomi i due fuochi della morte cupi accesi annibale picotti morì di fatti circa tre anni dopo le nozze e fu per marco il colpo più tremendo lo aveva previsto sì lo sapeva bene che per forza al fratello doveva andargli a finire così ma intanto che terribile monito per lui e che schianto non volle arrischiarsi neanche ad accompagnarlo fino al cimitero troppo si sarebbe commosso e troppo dispetto anzi odio gli avrebbero mosso dentro gli sguardi della gente che da un canto lo avrebbero compassionato e dall'altro gli si sarebbero fitti acutamente in faccia per scoprire anche in lui i segni del male di che erano morti tutti i suoi fino a quell'ultimo no egli no non doveva morire egli solo della sua famiglia l'avrebbe vinta aveva già 45 anni gli bastava arrivare fino ai 60 poi la morte ma un'altra non quella non quella di tutti i suoi poteva pure prendersi la soddisfazione di portarselo via non gliene sarebbe importato più nulla e raddoppiò le cure e la vigilanza non voleva però in pari tempo che la costernazione assidua quello starsi a spiare tutti i momenti gli innocesse e allora arrivò fino a proporsi di fingere davanti a se stesso che non ci pensava più sì ecco di tratto in tratto certe parole come fa caldo oppure bel tempo gli venivano alle labbra sole non pensate proprio sole non che lui le volesse proferire per sentirse la voce non gli si fosse un poco arrocchita e andava in giro per le ampie stanze vuote della casa antica dondolando il fiocco della papalina di velluto e fischiettando la piccola donna fanny la cameriera che non si sentiva ancora tanto vecchia e in parecchi anni che stava lì a servizio non era per anco riuscita a levarsi dal capo che il padrone avesse qualche mira su di lei e per timidezza non glielo sapesse dire vedendolo gironzolare così per casa gli sorrideva e gli domandava vuole qualche cosa signorino marco picotti la guardava d'alto in basso e le rispondeva asciutto non voglio nulla soffiatevi il naso donna fanny si storceva tutta e soggiungeva capisco capisco vossignoria mi rimprovera perché mi vuol bene non voglio bene a nessuno le gridava allora con tanto d'occhi sbarrati vi dico soffiatevi il naso perché pigliate tabacco e quando uno piglia tabacco non fa vedere certe gocce che pendono dal naso le voltava alle spalle e si rimetteva a fischiettare dimenando il fiocco e gironzolando un giorno la vedova del fratello ebbe la cattiva ispirazione di fargli una visita per carità no le gridò lui premendosi forte le mani sul volto per non vederla piangere così vestita di nero andate andate via non va rischiate più a venire per carità volete farmi morire ve ne scongiuro andate via subito non posso vedervi non posso vedervi un attentato gli parve quella visita ma che credeva colei che gli non pensasse più al fratello ci pensava ci pensava soltanto fingeva di non pensarci perché non doveva ancora non doveva per tutto un giorno ci stette male e anche la notte nello svegliarsi ebbe un furioso accesso di pianto di cui la mattina dopo finse di non ricordarsi più ilare ilare la mattina dopo fischiettava come un merlo e ogni tanto fa caldo bel tempo quando i baffi che gli si erano conservati ostinatamente neri cominciarono a brizzolargli si come già i capelli sulle tempie anziché affliggersene ne fu contento contentissimo latisi poiché tutti i suoi erano morti giovanissimi gli richiamava l'idea della gioventù più se ne allontanava più si sentiva sicuro voleva doveva invecchiare con la gioventù odiava tutte le cose che le si riferivano l'amore la primavera soprattutto la primavera sapeva che questa era la stagione più temibile per i malati di petto e con sorda stizza vedeva rinverdire e ingemmarsi gli alberi del giardinetto di primavera non usciva più di casa dopo il desinare rimaneva a tavola e si divertiva a fare l'armonica coi bicchieri se donna fannì accorreva al suono come una farfalletta al lume la cacciava via aspramente povera donna fannì era proprio vero che quel brutto padrone non le voleva bene e se ne accorse meglio quando ammalò gravemente e fu mandata via a morire all'ospedale marco picotti se ne dolse soltanto perché dovette prendere un'altra cameriera e gli toccò di cambiarne tante in pochi anni all'ultimo poiché nessuna più lo contentava e tutte si stufavano di lui si ridusse a vivere solo a farsi tutto da sé arrivò così ai 60 anni allora la tensione in cui per tanto tempo aveva tenuto lo spirito d'un tratto si rilasciò marco picotti si sentì placato lo scopo della sua vita era raggiunto e ora ora poteva morire ah sì morire morire era stufo nauseato stomacato non chiedeva altro che poteva più essere la vita per lui senza più quello scopo senza più quell'impegno stanchezza noia a fa si mise a vivere fuori d'ogni regola a levarsi da letto molto prima del solito a uscire di sera a frequentare qualche ritrovo a mangiare tutti i cibi si guastò un poco lo stomaco si seccò molto si indispetti più che mai della vista della gente che si guidava a congratularsi con lui del buono stato della sua salute luggia la nausea gli crebbero tanto che un giorno alla fine si convince che gli restava da fare qualche cosa non sapeva ancora bene quale ma certamente qualche cosa per liberarsi dell'incubo che ancora lo soffocava non aveva già vinto no sentiva che ancora non aveva vinto glielo disse glielo dimostrò a meraviglia quell'uccello impagliato ritto lì sulla gruccia da pappagallo sulle due scansie paglia paglia si mise a dire marco picotti quel giorno guardandolo lo strappò dalla gruccia cavò da una tasca del panciotto il temperino e gli spaccò la pancia ecco qua paglia paglia guardò in giro la camera vide i seggioloni antichi di finto cuoio e il divano e con lo stesso temperino si mise a spaccare l'imbottitura e a trarne fuori a pugni la borra ripetendo col volto atteggiato di scherno e di nausea ecco paglia 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 che intendeva dire ma questo semplicemente andò a sedere davanti alla scrivania trasse da un cassetto la rivoltella e se la puntò alla tempia questo così soltanto avrebbe vinto veramente quando si sparse in paese la notizia del suicidio di marco picotti nessuno dapprima ci volle credere tanto apparve a tutti in contraddizione col chiuso testardo furore con cui fino alla vecchiezza sarà tenuto in vita moltissimi che videro nella camera quei seggioloni e quel divano squarciati non sapendo spiegarsi né il suicidio né quegli squarci credettero piuttosto ad un delitto sospettarono che quegli squarci la fossero opera ad un ladro o di parecchi ladri lo sospettò prima di tutti l'autorità giudiziaria che si pose subito a fare indagini e ricerche tra i numerosi reperti trova un posto d'onore appunto quell'uccello impagliato e come se potesse giovare a far lume al processo un bravo ornitologo ebbe l'incarico di definire che razza d'uccello fosse